La chiesa la frequentava solo per rubare. Il giorno prima era riuscito ad impossessarsi delle chiavi dell'ufficio del parroco, riposte in una cassetta sull'altare. Qualche ora dopo era entrato nell'ufficio e si era impossessato di un pc portatile. Gli agenti del commissariato di Galatina hanno arrestato sul fatto Ivan Cuna, 26enne, sorpreso a rubare nella chiesa Madonna della Luce. Per lui, arresto in flagdanza. Ruba selle di biciclette nel cuore della notte, ma viene arrestato dalla polizia. Manuel Pepe, 35 anni, è stato bloccato mentre fuggiva alle 6 del mattino nel centro storico di Lecce dopo essere stato sorpreso ad armeggiare nei pressi di un furgone. Il mezzo era parcheggiato davanti all'hotel Santa Chiara, nell'omonima piazzetta. Le bici erano sistemate sul tettuccio. A chiamare la polizia era stato proprio il portiere dell'hotel. Pepe è stato perquisito, addosso aveva diversi accessori da bicicletta, un paio di forbici, un navigatore satellitare e naturalmente le selle. Individuato grazie alle indagini nella polizia di Otranto, un truffatore online catanese è poi denunciato. La vittima, un uomo di Otranto, si era presentato in commissariato denunciando una compravendita fasulla di un motore da imbarcazione. L'uomo aveva trovato l'annuncio sul sito subito.it ed aveva contattato il venditore. Dopo una serie di contatti, anche telefonici, la vittima aveva versato 1000 euro ed era in attesa del motore. Una truffa bella e buona. I dati e i riferimenti erano falsi.